Il cilento protagonista a tavola anche in Liguria, grazie all'associazione puntatrisino di Castellabate, che è forte del gemellaggio con la Proloco Camogli, ha preso parte alla 68esima edizione della Sagra del Pesce di Camogli, la più antica e famosa d'Italia. Le due realtà associative, gemellate ufficialmente dal 2016, operano fattivamente attraverso uno scambio di collaborazione che si materializza in occasione dei due eventi gastronomici rispettivamente organizzati, la Sagra del Pesce di Camogli e la Festa del Pescato di Paranza di Castellabate. Abbiamo iniziato l'anno scorso con questo patto di amicizia tra le due città, stiamo andando avanti, il nostro sodalizio si è consolidato, fa molto piacere la presenza di Castellabate alla nostra festa, la Sagra del Pesce e speriamo di ricambiare nella vostra bellissima città nel prossimo giugno. Per me sarebbe molto bello poter essere presente così da ricambiare la vostra presenza qua alla nostra festa, credo che farò il possibile per essere tra di voi. Sì, la Sagra va avanti, il tempo non è nelle condizioni migliori, però non ci rendiamo davanti a nulla, soprattutto col supporto dei nostri amici di Castellabate che sono ormai parte integrante della nostra festa. Metastend è occupato da loro con dei piatti spettacolari e noi siamo contentissimi. Stiamo aspettando solo il momento giusto per tornare a Castellabate dove siamo già stati e dove ci siamo trovati benissimo con un'accoglienza meravigliosa e dove torneremo a proporre la nostra collaborazione e il nostro famoso padellone. Secondo me non è importante la distanza, ma è importante il rapporto che si viene a creare tra le persone. Quando ci si incontra tra persone di questa levatura è una grandissima gioia ed è una soddisfazione molto bella, ci si sacrifica moltissimo, perdiamo giornate, ore, tempo prezioso per tutte le altre cose, ma queste sono soddisfazioni che non ci sono parole adatte per spiegare quello che si prova in questo rapporto. Nel weekend Ligure l'associazione Punta Tresino ha annunciato anche l'edizione della festa del pescato di Paranza che si terrà nel paese di Benvenuti al Sud dal 14 al 16 giugno. Anche quest'anno, grazie all'amicizia con la Proloco Camogli, il padellone partirà dalla Liguria verso il Cilento dove ad attenderlo ci saranno altre migliaia di visitatori. Questo connubio si rafforza con la Proloco Camogli, con i nostri prodotti tipici come l'acquasale, con la mozzarella di bufala, gli spaghetti quest'anno novità anche per noi con la colatura di alici che si ripeterà anche giù a Castellabate il 14, il 15 e il 16 giugno ed infine il kebab di Polipo. Vi aspettiamo numerosi giù a Castellabate.